Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo? Ma c'è un perché? Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lì là, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto Pinco Panco l'incendiò, a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lì là, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casa piccolina in Canada. E tante tante case lui rifece, ma però quel tale Pinco Panco tutto e quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lì là, e tutte le ragazze che passavano di là che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Allora con la fece? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lì là, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Dicevano che è bella la casetta in Canada. Dicevano che è bella la casetta in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lì che è bella la casetta in Canada. Allora con�을 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.